Tutto pronto a Roseto degli Abruzzi per Aspettando Roseto Opera Prima, il pre-festival lungo dieci giorni interamente dedicato all'intrattenimento e alla cultura, che a partire da domani sera, martedì 5 luglio fino al 14 luglio, accenderà i riflettori nella caratteristica villa comunale, per poi passare il testimone al festival cinematografico Roseto Opera Prima ideato nel 1996 nel Comune Costiero dal grande regista Montoriese Tonino Valeri. È dedicato ai migliori esordi alla regia in programma dal 15 al 19 luglio. Ricchi Tognazzi, Enrico Vanzina, Donatella di Pietrantonio e Remo Rapino, gli ospiti di Punta di Aspettando Roseto Opera Prima. Sì, abbiamo lavorato tanto, finalmente domani si apriranno le porte, speriamo che vada tutto bene, noi ci siamo impegnati al massimo per dare al territorio quello che merita. Possiamo dire che ce n'è davvero per tutti i gusti? Assolutamente sì, dal food agli eventi sera per sera fino all'attesa del 15 che ci sarà l'apertura del cinema. Noi riapriamo finalmente la villa comunale di Roseto degli Abruzzi alle 19.30 con l'inaugurazione con il sindaco Mario Nugnes e Francesco Luciani, l'assessore della cultura e tutta la giunta comunale. Abbiamo in apertura il cantautore Setac, tra l'altro del territorio perché lui è abruzzese, adesso è in giro tra l'altro con i concerti insieme a Tommaso Paradiso e apriremo con lui perché ci teniamo al territorio e lui canta in dialetto abruzzese e quindi apriremo insieme al conduttore Flavio Massimo questa serata. Il giorno seguente invece c'è una novità perché abbiamo l'onore di avere qui con noi Richi Tognazzi e parleremo chiaramente del grande Ugo. Un evento che noi di Rete 8 seguiremo in diretta? Assolutamente sì, infatti sarete partecipi, sarete in prima linea portandolo all'Abruzzo della televisione all'interno della villa e facendo partecipare anche tutti gli imprenditori del territorio e le varie associazioni che contribuiranno al successo di questo evento. Manca solamente una cosa, facciamo un invito a partecipare, a venire qui a Roseto degli Abruzzi nella location bellissima della villa comunale. Certo, noi vi aspettiamo tutti quanti, tra l'altro si potranno assaggiare dei cibi particolari del chef Francesco Aurichiella e si potrà bere in compagnia di tanta musica.